Le reti sociali sono uno degli aspetti più importanti, secondo noi, il nostro gruppo qui è qui a IESE, riguardo al tema di quello che noi chiamiamo getting things done, quindi l'idea di eseguire la strategia, avere un piano, avere un'idea, però farle diventare idee la realtà. E questa è una cosa di cui ci occupiamo molto perché la grande maggioranza delle aziende che vengono a lavorare con noi, che vogliono fare dei corsi con noi, ci danno questa come la prima priorità. Tant'è che inoltre abbiamo anche un programma da quattro giorni solamente dedicato a getting things done per visualizzare un problema comune dell'organizzazione che è quello dei silos, silos in inglese, in italiano si dirà più o meno uguale. Che è questa tendenza delle organizzazioni, avere gruppi, divisioni, funzioni molto, molto, molto chiuse e poche relazioni che connettono tra i vari gruppi. E' che noi possiamo prendere questi manager, calcolare quanto aperto o chiuso il loro network è e mettono in relazione con la loro performance, quindi con la loro capacità di avere nuove idee, valutazioni, promozioni, quello che volete voi. Ci sono tre driver importanti. Uno è il capitale, gli asset tangibili. Uno sono le persone, human capital. La cosa interessante è che queste forme di capitale creano processi di creazione del valore. Se scambi sul network degli asset, hai commercio, quindi creazione di valore. Se investi tempo e denaro nelle persone, tendenzialmente hai nuova conoscenza, apprendimento. E se hai delle persone sul network, hai la comunità, hai la collaborazione, eccetera. Quindi collaborazione, apprendimento e scambio sono tre processi fondamentali della creazione del valore. Il network è importante pensarli e fare strategie, però la cosa più importante del network è agire. Grazie a tutti.